Giornata piena oggi a Spoltore dove sono arrivati i volontari della protezione civile da tutta Italia nell'ambito dell'esercitazione multidisciplinare denominata Campus 2013. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Modavi e si concluderà domani. Obiettivo dell'esercitazione è quello di mettere a sistema l'esperienza maturata a seguito delle numerose attività addestrative e formative di emergenza effettuate dai volontari. Il programma di oggi ha visto la simulazione di terremoto nella parte vecchia di Spoltore con il recupero delle vittime sotto le macerie, prove di alluvioni e antincendio. Franco Giovagnoli, presidente Modavi nazionale. Stiamo facendo questo campo nel territorio di Spoltore per valutare la preparazione dei volontari, per verificare se ci sono lacune e eventualmente fare dei corsi di formazione ad hoc per prepararli a affrontare le eventuali emergenze sul territorio. Una verifica della preparazione dei volontari è rivolta ai volontari della protezione civile, alle associazioni non solo del Modavi ma anche associazioni vicine al Modavi. L'evento coincide proprio con i festeggiamenti in onore del Santo Patrono del Paese, San Panfilo. Domani il programma prevede esercitazioni varie nella prima parte della mattinata con un convegno sul tema della sicurezza e in particolare sull'autoprotezione dai rischi ambientali all'interno del campo. La giornata si concluderà con la cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti.